Un defibrillatore nuovo di Zecca sarà consegnato al comune di Sala Consilina sabato prossimo grazie all'iniziativa messa in campo dal Forum dei Giovani della città capofila del Vallo di Diano. Lo rende noto il vicepresidente del Forum Enza Paventa che sottolinea come l'acquisto del defibrillatore è stato reso possibile grazie all'organizzazione di vari tornei di sport dal calcio a 5 a un triangolare di calcio a 11 messa in campo grazie all'impegno di tutti i ragazzi del Forum dei Giovani Salese. Dopo aver raggiunto la cifra necessaria si è poi provveduto all'acquisto del defibrillatore che sabato 7 settembre sarà consegnato al sindaco Gaetano Ferrari nel corso di una giornata in programma presso il palazzetto dello sport di Sala Consilina che oltre alla cerimonia di consegna prevede anche un percorso formativo gratuito di primo soccorso BLSD e di disostruzione delle vie aeree. Il corso che si svolgerà in collaborazione con l'associazione Carmine Speranza Ollus si terrà dalle ore 8.30 alle 13.30 ed è aperto a tutti i maggiorenni e riservato ad un numero massimo di 30 partecipanti. Tra le finalità del corso l'acquisizione e la schematizzazione delle conoscenze relative al trattamento dell'arresto cardiocircolatorio con defibrillatore semiautomatico esterno secondo le ultime linee guida. Saper riconoscere l'arresto cardiocircolatorio, saper mettere in atto le manovre e i protocolli per il trattamento con defibrillatore semiautomatico all'arresto cardiocircolatorio, acquisire capacità di autocontrollo in risposta a situazioni critiche, saper applicare correttamente le manovre per la disostruzione delle vie aeree. Chiunque voglia partecipare può contattare il forum dei giovani di Sala Consilina tramite Daniele Giafrida oppure il vicepresidente Enza Paventa. A fine corso, dopo aver superato l'esame teorico pratico e lo skill test, verrà rilasciata una card quale soccorritore non professionista per le manovre di primo soccorso come previsto dall'articolo 54 del codice penale. Siamo felicissimi di aver raggiunto l'obiettivo di acquistare il defibrillatore, sottolinea il vicepresidente del forum dei giovani Enza Paventa, e ci teniamo a ringraziare tutti coloro che lo hanno reso possibile. I ragazzi che hanno partecipato ai tornei di calcetto a 5, al triangolare di calcio a 11, nonché tutti i privati che hanno offerto il loro contributo.